Sono in gara, forse a 1 Blasi Alessandro, forse a 2 Pellegrini Alessio, forse a 3 De Ronchi Stefano, forse a 4 Silvano Rendo, forse a 5 Garziani Francesco, forse a 6 Pavolini Filippo, forse a 7 Grobelio Federico, forse a 8 Puglisi Gianluca. Grazie a tutti, grazie a tutti.